Incominciamo da Carvico, dove è andata in scena la corsa in montagna, la Sky del Canto, con un'elezione davvero da record. 3, 2, 1... 700 iscritti in gara per una Sky del Canto di altissimo livello sui sentieri del promontorio che domina l'isola Bergamasca. Senza pioggia e senza fango, tanto è vero che sono stati abbattuti tutti i record precedenti sul percorso di 22 km e 1280 m di dislivello con partenza ed arrivo a Carvico. In campo maschile vittoria del 23enne trentino Cesare Maestri dell'Atletica Valli Bergamascheleffe che in un'ora 37 minuti e 49 secondi ha preso subito il largo precedendo di 2 minuti e 23 secondi il campione del mondo di corsa in montagna a lunghe distanze Alessandro Rambaldini abbassando il primato che apparteneva a Pascal Egli. Terzo gradino del podio per Marco Zanoni. A quinto posto il non ancora 17enne Andrea Rota con partecipazioni speciali del re del Tordegian Oliviero Bosatelli e di Mario Poletti, vera e propria icona di questa disciplina. Mi sono divertito, il percorso è bello, tutto su e giù nei sentieri. Alla fine l'ultima salita non ne avevo più, hanno iniziato a venirmi i crampi quasi alle gambe allora ho dovuto rallentare un attimo e è andato benissimo così. In campo femminile si è imposta la favorita della vigilia, la rumena Denisa Dragomir che in un'ora 54 minuti e 22 secondi ha polverizzato il record fatto segnare nel 2016 da Katrin Villumsen. Al secondo posto la connazionale Ingrid Mutter, anch'essa sotto il primato precedente e terza la beniamina di casa Martina Brambilla, già due volte vincitrice di questa gara. Nella top 5 anche Sara Rapezzi e l'ultrarunner Graziana Pe. Stamattina quando abbiamo visto due gocce scendere dal cielo pensavamo al peggio invece tutto si è risolto per il meglio, è stata una grande festa, la manifestazione, la gara è andata benissimo abbiamo visto battaglia sin dall'inizio, dietro c'è tanto lavoro, tanta fatica, tanto impegno però queste sono delle grandi soddisfazioni. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie.